essere Tg Bassano, una buona serata a tutti voi telespettatori, siamo nuovamente in diretta, in apertura vi diamo tutti i dati relativi alla giornata dell'Ulss 7 Pede Montana e allora vediamo assieme la tabella, i casi positivi sono 612, 378 dei quali nel distretto 1 Bassanese, 234 nel distretto Alto Vicentino i tamponi eseguiti sui residenti sono 3.725, 3.204 negativi, i soggetti in sorveglianza attiva sono 1.645 ricoverati a Bassano 23, 19 ad Asiago, 92 a Sant'Orso, 33 i decessi dall'inizio dell'emergenza 10 dei quali a Bassano, 8 ad Asiago, 14 a Sant'Orso, 1 nella giornata odierna all'ospedale di comunità di Marostica si tratta di una donna di 81 anni che ha perso la vita nella giornata di oggi all'ospedale di comunità di Marostica un quadro ancora di emergenza piena e proprio in questo momento così particolare si sono innescate le parole del ministro Boccia per cui ha detto le regioni da sole senza quindi l'intervento del governo sarebbero crollate parole che hanno provocato la reazione anche dello stesso governatore Zaia che ha risposto con i numeri alla mano sentirsi dire che se non c'è lo Stato saremo tutti a cartoni decisamente no vi lascio uno schema poi ognuno di voi lo leggerà come vuole di cosa abbiamo chiesto di cosa abbiamo avuto e non sono uno che ha mai fatto polemiche non ho neanche preso in mano la mascherina famosa per dire io l'ha fatto tutti io non ho mai fatto polemiche la definisco spero sia uno scivolone perché è un'uscita infelice risponde a muso duro il governatore Zaia alle dichiarazioni rilasciate durante un'intervista dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia nessuna regione ce l'avrebbe fatta da sola sarebbero crollate tutte la frase incriminata che in queste ore ha fatto sobbalzare sulla sedia più di un governatore lungo la penisola Zaia ne fa una questione di numeri abbiamo 700.000 kit test rapidi in arrivo se mi dice quanti ne ha il governo in arrivo di test rapidi da distribuirci ci misuriamo su questo noi abbiamo bisogno di 200.000 PFF3 al giorno se ne sono state consegnate 3.210 le PFF2 ne abbiamo bisogno di 200.000 al giorno consegnate 152.000 le chirurgiche ne abbiamo bisogno di 500.000 quanti sono queste qua? 500.000 al giorno ce ne hanno consegnate 682.000 al giorno questi dati aggiornati resta la questione tamponi sui tamponi abbiamo fatto anche oggi il punto della situazione noi abbiamo una capacità di circa 11.000 tamponi in questo momento quotidiani però è bene che io vi dica li stiamo facendo diciamo li stiamo facendo però è bene che io vi dica che il grande fattore limitante stanno diventando i reattivi stiamo facendo il diavolo a quattro con le microbiologie per trovare alternative perché le grosse aziende non ci forniscono più reattivi e mancano anche gli stecchi con i tamponi ostacoli a parte si sta raggiungendo un record per stasera abbiamo 100.000 tamponi fatti questo è il numero potete vedere siamo arrivati a 100.000 tamponi attenzione che non ne producevamo 11.000 al giorno prima prima andavamo via molto a scartamento ridotto resta il nodo delle case di riposo con un maggior coordinamento tra regione e le stesse strutture spesso private adesso stiamo tentando anche alla volta di domani penso ce l'avremo redigendo un nuovo piano noi sapete che avevamo tutte le circolari direttive cerchiamo di fare anche un nuovo piano ad hoc per le case di riposo non escludendo non escludendo se fosse necessario anche di prevedere lo spostamento di alcuni pazienti però dobbiamo capire nel piano cosa ne viene fuori perché capite che i pazienti se li portiamo in ospedale è come portare uno dalla griglia alla braccia cioè in ospedale è il posto meno indicato in ospedale bisogna portare chi deve essere curato quanto alla tempistica dell'emergenza Zaia ribadisce l'importanza dei prossimi giorni e la necessità di rispettare le regole la prossima settimana sarà cruciale segnatevi i dati di oggi li andremo a vedere alla fine della prossima settimana e dipenderà molto da quanto bravi saremo ancora nel rispettare le regole rinnoverò l'ordinanza non vi so dire in che termini non vi so dire ancora perché stiamo facendo delle valutazioni se ampliarla ad alcuni aspetti oppure no però verrà rinnovata e durante la nostra diretta di oggi di questa domenica 29 marzo vi abbiamo riportato anche le dichiarazioni del Premier Conte in merito a quei 4,3 miliardi di euro per i comuni lo stesso Premier ha chiamato in causa i sindaci come sentinelle ha detto del territorio una cifra però che non può bastare a tutto il territorio veneto che ormai è in sofferenza da troppi giorni da settimane allora sulla questione sentiamo un commento del direttore Luigi Bacialli chissà cosa avranno pensato i sindaci del Veneto e in particolare Mario Conte quando si sono sentiti definire ieri sera dal Presidente del Consiglio sentinelle antenne come se stessero lì ad assistere passivamente a quello che sta accadendo i sindaci sono in prima linea in trincea sempre ogni giorno senza munizioni e senza armi perché non gliele mandate caro Presidente del Consiglio e ancora una volta avete dimostrato di essere indifferenti e cinici con il territorio mandando pochi soldi per gli indigenti e li affidate ai sindaci perché quando ci sono gatte da pelare sono loro le vittime prescelte e poi 4,3 miliardi di euro a chi? alle famiglie alle imprese che non lavorano da oltre un mese che sono alla canna del gas vi sembra che possa bastare questo in uno Stato che addirittura dovrebbe mandare le mascherine e i respiratori e non lo fa per questioni burocratiche con la Consip che ferma tutto questo materiale e non lo manda a destinazione ecco questo è lo Stato centrale e allora siccome molti dicono cosa cosa suggerisce lei che ha delle critiche da muovere allora credo che si possa fare già qualcosa mettendo subito da domani nei conti corretti dei Veneti il residuo fiscale di 15 miliardi che ci dovete che invece vi trattenete contiamo non 5 milioni di Veneti ma 4 milioni e pensiamo quindi che 4.000 5.000 euro nelle tasche dei cittadini del Veneto possono essere già qualcosa domani però sul conto corrente e non tra un mese spero sia chiaro Presidente del Consiglio risorse insufficienti per il Veneto così e anche di questo parere il Presidente della Provincia di Vicenza nonché il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco in queste ore abbiamo ascoltato l'annuncio del Presidente del Consiglio che ha stanziato delle risorse a favore dei comuni del territorio nazionale come sindaci stiamo lavorando ogni giorno sul territorio fianco a fianco dei nostri concittadini fianco a fianco delle nostre imprese in grave difficoltà sia per l'emergenza sanitaria che per l'emergenza economica deve essere chiaro e lo dico dal Presidente della Provincia non solo dal Sindaco della città capoluogo che le risorse devono essere ben altre c'è un'emergenza nazionale ci sono dei territori in grave difficoltà ci sono tante persone che verranno a chiedere aiuto ai propri sindaci e i sindaci non hanno le risorse sufficienti le cifre annunciate sono assolutamente insufficienti ci vuole uno sforzo ulteriore e quindi invito il Presidente del Consiglio a scendere tra la gente venire nei territori più colpiti in questo momento in particolare Veneto e Lombardia e capire quali siano le vere esigenze dei cittadini e le vere esigenze delle nostre imprese ci vuole un'iniezione di risorse economiche straordinarie per poter affrontare al meglio poi questa emergenza internazionale e prima di sentire le reazioni in merito a quanto dichiarato dal Premier Conte e anche degli altri sindaci del territorio vediamo insieme che sono arrivati i dati dall'azienda Zero in merito agli nuovi casi positivi che sono dalle 8 di oggi più 151 siamo arrivati a 8.509 casi positivi nello specifico si parla di più 57 positivi a Verona più 21 a Vicenza più 25 a Padova e così via via 19 a Venezia più 10 a Treviso più 15 a Belluno nello specifico poi i pazienti in area non critica sono 1617 più 31 rispetto a ieri quelli in terapia intensiva sono registrati più 5 casi in terapia intensiva e siamo arrivati a quota 360 più 10 invece il numero delle persone che sono decedute nella giornata di oggi i casi lo ricordiamo registrati le 17 quindi 10 persone dalle 8 di stamattina alle 17 di oggi sono decedute 402 sono i decessi registrati dal 21 febbraio scorso mentre 740 sono le persone che sono state dimesse sempre dal 21 febbraio ad oggi quindi più 151 i casi positivi si è toccata quota 8.509 casi in tutta la regione veneto quelli che sono registrati appunto le 17 di oggi sono stati divulgati si diceva sindaci sindaci del territorio che hanno ascoltato le parole del premier conte e decisamente c'è tanta rabbia ma sentiamoli sono arrabbiati i sindaci veneti in un momento in cui la regione sta soffrendo il timore che nelle nostre terre ancora una volta arrivino solo le briciole lo fa ben capire Emanuele Munari sindaco di Gallio e presidente dell'Unione Montana aspettabile reggenza dei sette comuni penso che tutto questo plafond debba essere rivisto quanto meno nei criteri di ridistribuzione tornando invece ai 4 miliardi virgola 3 stanziati dal fondo di solidarietà comunale ecco questo ci ha fatto molto arrabbiare per quanto riguarda noi comuni altopianesi perché noi già da anni versiamo alimentiamo con proprie risorse questo fondo di solidarietà comunale che poi da Roma viene spartito e gestito verso quei comuni in disavanzo o in difficoltà quindi per noi deve essere chiara una cosa quali sono i criteri che il governo andrà ad utilizzare attraverso questo fondo perché noi ripeto alimentiamo questo fondo non siamo beneficiari 7 milioni di euro all'anno versano i comuni dell'altopiano al fondo di solidarietà molto critica anche Morena Martini sindaco di Rossano Veneto che fa una proposta io chiedo al governo se veramente vuole aiutare i cittadini e i comuni di fare una moratoria totale per i mesi di marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 2020 perché non finirà in fretta di tutti quelli che sono le le bollette magari mettendosi d'accordo con le agenzie con le aziende di somministrazione di energia elettrica di somministrazione del gas eccetera dal fondo di solidarietà il comune di Cittadella riceve 360 mila euro troppo poco spiega il sindaco che chiede più coraggio al governo interventi di sostegno economico simili a quelli messi in campo in Germania un intervento che purtroppo ai comuni serve a poco o a nulla riusciremo ad aiutare una manciata di famiglie dando a loro 300 euro una tanto praticamente nulla neanche un affitto di un mese di un appartamento non sono questi gli interventi che ci servono ci servono degli interventi normativi importanti che riescono a liberare anche risorse che già ci sono all'interno dei comuni e poi risorse devono arrivare in più dallo Stato e intanto continuano i controlli su tutto il territorio da parte delle forze dell'ordine un centinaio le persone fermate dai carabinieri di Bassano 5 le denunce per il mancato rispetto del decreto in merito all'emergenza coronavirus e tra l'altro una denuncia anche per spaccio dovevano portare il cane a passeggiare a due chilometri da caso lavare l'auto con gli autolavaggi chiusi sono le più diverse le scuse avanzate da quanti sono stati fermati e sanzionati nelle ultime ore dai carabinieri della compagnia di Bassano controlli estesi a tutto il territorio della compagnia 100 le persone fermate 5 quelle denunciate con il 95% della popolazione che con le fatiche del caso rispetta queste misure urgenti e nonostante le giornate di emergenza e l'obbligo di restare a casa non si ferma lo spaccio di stupefacenti proprio nei pressi di un supermercato i carabinieri in abiti civili hanno notato uno scambio sospetto tra due persone che portava la successiva denuncia per spaccio di un marocchino di 27 anni sorpreso a cedere due dosi di cocaina e marijuana in questi giorni si stanno distribuendo le mascherine la protezione civile al lavoro volontari e le volontarie in prima linea per portare casa per casa le mascherine allora vediamo come sta funzionando il distretto qua atto 1 Brenta che va da Pozzo Leone a Cismone da Bassano a Mussolente attualmente come volontari di protezione civile si sta dando a fare a supportare il pronto soccorso di Bassano con i pretriage mandando volontari a supporto oltre che aver già montato una ventina di giorni fa sia le tende a Bassano che nel pronto soccorso di Sant'Orso le tende ovviamente fornite dalla provincia che ci hanno ordinato di installarle adesso a livello distrettuale ci stiamo anche muovendo supportando tutti i vari COC nei vari paesi anche qui a Bassano logicamente il supporto dei COC va a dare supporto alla popolazione nonché alla distribuzione delle mascherine che arrivano giornalmente dalla fornitura dalla sala operativa provinciale a cui già diamo supporto con volontari e aiutiamo per l'appunto i comuni nell'impacchettamento e nella distribuzione le organizzazioni di protezione civile e non solo si stanno dando da fare anche a supportare le persone più fragili nel portare a casa le spese volontari della protezione civile del distretto bassanese sempre in prima linea i volontari del distretto di Bassano certamente sì non dicono mai di no e questo lo posso confermare perché se partiamo da Pozzoleone saliamo a Tezze Rosà Cartigliano Rossano Bassano Cassola Mussolente Pove il nuovo comune di Valbrenta e Solagna sono tutti volontari che di certo non si arrendono di fronte a qualsiasi problematica tempi di emergenza però i malintenzionati non si fermano assolutamente quindi state attenti a chi magari vi telefona perché deve controllare le tubature dell'acqua e a Campo San Martino proprio nello specifico è stata sventata una truffa operano anche in questi tempi difficili cercando di sfruttare la minima debolezza ma il cittadino di Campo San Martino utente a Etra si è mostrato preparato qualche giorno fa ha ricevuto una telefonata abbiamo necessità di fare dei controlli un nostro tecnico passerà alle 14 per verificare se nell'acqua di casa sia presente il coronavirus per nulla impressionato il cittadino ha contattato Etra che come da nota dell'Istituto Superiore di Sanità ha spiegato che non c'è nessun rischio per l'acqua distribuita dagli acquedotti si può bere quindi in totale sicurezza invitando il cittadino a chiamare le forze dell'ordine gli operatori ricorda Etra devono essere dotati di tesserino di riconoscimento e per ogni dubbio contattate i numeri verdi quello del servizio idrico risponde all'800 566 766 attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 rieccoci abbiamo sentito i furbetti sempre al lavoro dobbiamo assolutamente sempre stare attenti questo è un appello rivolto soprattutto agli anziani e un altro appello che vogliamo fare è quello di donare donare quello che si può ognuno può dare il suo contributo per sostenere Helios Onlus l'associazione degli imprenditori del Bassanese che sta lavorando appunto attivato questo conto corrente per acquistare materiale strumentazioni che andranno ad aiutare i nostri medici andranno ad aiutare i nostri ospedali per salvare vite umane di conseguenza chiarissimo contribuisci è l'appello per vincere insieme l'intestazione Helios associazione Liban lo state vedendo e basta ognuno può dare quello che si sente ognuno può lasciare un proprio contributo per davvero dare un aiuto concreto ai medici che lavorano e agli infermieri che lavorano nei nostri ospedali a cominciare proprio dall'acquisto dei respiratori perché sappiamo benissimo che in questo periodo di emergenza terribile un respiratore salva una vita umana ognuno può donare quello che si sente tra l'altro voglio ricordare che già domani noi vi daremo conto vi aggiorneremo della quota che è stata raggiunta sino appunto all'ultimo momento grazie grazie al contributo di tutti voi quindi un appello forte che vogliamo fare attraverso le nostre telecamere per far sì che tutti insieme possiamo aiutare i nostri medici e il nostro ospedale concretamente e ovviamente accanto a questo appello a donare a Helios Onlus c'è anche un altro grande appello che è quello che facciamo continuamente restate a casa grazie per averci seguito una buona serata da Cherubin oltre 30 tipi di vini del Piave Cabernet Sauvignon azienda agricola Carrère a 1,60 euro al litro vini in bottiglia da 4,40 euro a bottiglia benvenuti al Meteo una massa d'aria fredda proveniente dal nord Europa causerà instabilità calo termico e neve a bassa quota la previsione di lunedì 30 marzo sul Veneto il cielo risulterà piuttosto nuvoloso la nostra grafica ci mostra anche precipitazioni piuttosto diffuse a tratti anche moderate e abbondanti quota neve in calo fino a circa mille metri temperature insensibile diminuzione minime tra 1 e 3 gradi massime comprese invece tra 6 e 12 gradi inizio di settimana con tempo instabile anche a Vicenza a Bassano del Grappa in particolare avremo condizioni anche qui di maltempo con rovesci diffusi ovunque localmente anche intensi clima più fresco con temperature in calo dal Meteo di Rete Veneta per ora è tutto arrivederci al prossimo aggiornamento prova il nostro roast beef prodotto da allevamenti a cassola e il bastardo misto capra a 9,90 euro al chilo Cherubin a Bassano chiamaci prenota la tua spesa e passa a ritirarla inoltre consegna domicilio zona Santa Croce e quartiere Firenze inoltre a a a Grazie a tutti.